segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te vincerà l'ucraina ogni volta sembra che soccomano tutti fanno i pessimisti ea volte soccomano veramente però io ho messo un titolo scaramanti col mio libro e sono convinto che questa volta vinceremo non solo in ucraina nel mondo è un problema che non riguarda solo l'ucraina a proposito ucraina te lo chiedo perché in realtà nella notizia in pochi minuti è diventata la prima notizia tiziana kiev abbiamo ucciso il comandante della flotta del mar nero il comandante russo della flotta del mar nero generale sokolov e con lui altri 34 altri ufficiali in ucraina sono arrivati anzi arriveranno anche i primi abrams che sono i carri armati mandati degli stati uniti d'america e dall'alleanza atlantica ma la notizia dell'uccisione del generale sokolov una notizia che può cambiare alcuni equilibri nella parte non so valutare il reale impatto di quello che sta succedendo ma ti chiedo che dati si è fatto tu paolo a che punto siamo allora io non mi fido mai delle notizie date codice siamo durante la guerra le guerre si combattono anche come farsi notizie il giorno dopo si scopre che non era vero ma questa notizia almeno nei fondamentali è vero nel senso che il porto russo più importante sul mar nero è stato colpito durante il fine settimana e questo colpo a sorpresa molto importante è avvenuto dopo una settimana in cui tutti davano gli ucraini per morti compresi i grandi giornali internazionali dicevano va bene ormai la loro offensiva è fallita e quindi questo dimostra come a durante le guerre le cose si alternano mai darle per concluse la seconda guerra mondiale nel maggio del 40 e per tutto il 1940 sembrava persa per l'intera europa sembrava che i nazisti essero vinto resisteva poveretto l'inghilterra la gran bretagna da sola ma presto sarebbe io non conosco il participio passato al verbo soccombere ma sarebbe soccombuta anche la gran bretagna e non lo conosco è un mio difetto lo confesso a voi agli spettatori però sembrava che stesse per soccomere diciamo così anche la gran bretagna e la guerra sembrava persa poi la guerra ebbe delle svolte nel 41 e russi furono attaccati ai nazisti e poi giapponesi attaccarono per l'arbor e poi si rivoltarono i fronti quindi le guerre si giudicano solo quando si chiudono per adesso è prematuro e quel pessimismo della settimana scorsa su l'ucraina che ha ispirato una celeberrima copertina giovedì scorso dell'economist forse va rivisto alessio ancora la notizia